di solito si ricomincia subito in palestra in questo caso invece nella piazza bella della città piazza duomo che fatto fare chi ma bello sicuramente ritornare si di solito si inizia in palestra quello che abbiamo fatto diciamo che ci ha concesso questa mezza giornata un po più istituzionale ma comunque bello ritornare a trento respirare l'aria di questa città e come come l'anno scorso primo giorno subito una giornata spettacolare titolo il redatto che da ulteriore consapevolezza nei vostri mezzi sì sì sicuramente queste cose aiutano aiutano molto in termini di fiducia e diciamo che siamo pronti a ricominciare magari un po più stanchi degli altri ma con la carica forse ancora più alta che trentino valle ritrovi ma ritrovo tanti amici e sicuramente questo è un bene per sia per la squadra anche per ritrovare subito il feeling e altri ragazzi nuovi che non vedo l'ora di conoscere dal tetto del mondo al tetto di trento per una prima giornata di preparazione molto particolare daniele è stata è stata una giornata bella intensa abbiamo incontrato tutte le istituzioni il presidente della provincia il sindaco è stata una giornata veramente bella siamo felici di appunto di aver trascorso questa giornata aver potuto vedere tutti questi panorami bellissimi che veramente è una cosa unica essere qui e incontrare l'istituzione vuol dire che abbiamo fatto veramente qualcosa di bello e di importante e ci fare un po iniziare a realizzare quello che abbiamo fatto ecco appunto otto giorni sono bastati per iniziare a capire il risultato avete ottenuto sì sono passati ancora non del tutto magari ci vorrà ancora più di tempo siamo dei ragazzi che stanno coi piedi per terra alla fine per noi è come se non fosse successo nulla abbiamo vinto il campionato del mondo sì ma siamo sempre gli stessi e questa è la cosa bella di noi la promessa che abbiamo stampato al sindaco tornare qua sul tetto di trento in caso di qualcosa di importante anche con e speriamo lo auguro a noi lo auguro a tutto quello quello che siamo quello che siamo diventati la città di trento al sindaco veramente a tutti quanti ovviamente anche a me stesso vuol dire che ripeto quando si fanno queste cose si si arriva a questi a questi risultati incontrare queste istituzioni vuol dire che veramente si fa qualcosa di bello di importante speriamo di poterci di poterci tornare è vero tu non sei nato a trento ma sei cresciuto in questa città immagino che per te essere qui sulla torre civica sul tetto della torre civica sia particolarmente suggestivo si sia molto bello prima volta per me ringraziamo il sindaco insomma per l'ospitalità e per averci portato in questo posto magnifico in cui si vede tutta questa bella città e come detto tu per me che non sono nato qui ma ormai sono qui da tantissimi anni è veramente un'emozione forte appunto come detto prima grazie per per questa avventura vuol dire che avete ottenuto un risultato tale da portarvi sin qui sì esatto per questi posti importanti ci vogliono dei risultati altrettanto importanti e penso che l'abbiamo l'abbiamo fatto l'ultima cosa è bastata una settimana di tempo per ricaricare le pile per ripartire alla grande con trento sì sì dai no ma tornare qui a trento è sempre bello e anche senza settimana di riposo quindi ci ha aiutato sicuramente a a renderci conto un po di quello che abbiamo fatto e adesso però cominciamo quest'altra stagione con questa maglia e insomma sappiamo tutti cosa vogliamo quello che che sono un po gli obiettivi di questa società e non vediamo l'ora di cominciare grazie a tutti grazie a tutti